eccomi tifosi rosso blu appassionati la serie c qui paul è appena finita la partita potenza bisceglie con risultato di 1 a 1 un pareggio amaro per il potenza che butta via altri due punti dato che potenza già pochi punti ne continua a regalare altri alle altre squadre avversarie dopo i punti per esempio persi con casertana bibonese virtus francavilla e cavese si aggiungono anche due punti col bisceglie con la casertana che vince il potenza che va in zona play out con molte partite in meno rispetto anche ad altre squadre che devono ancora recuperare turni per causa covid il potenza era passato in vantaggio con cianci sul rigore un primo tempo dominato tranne qualche tiro da fuori del bisceglie che non ha mai impaurito impensierito della difesa del potenza secondo tempo col potenza che fa due campi salvemini zampa escono entrano juliano di livio forse per causa covid per stanchezza dato che non giocavano da due tre settimane il potenza perde il proprio equilibrio e con un passaggio all'indietro di coppola poi potenza si ritrova uno a uno da quel momento più bisceglie in campo il potenza difende il pareggio e la partita finisce proprio col risultato di uno a uno un pareggio che non fa bene a nessuna delle due soprattutto al potenza che era andato in vantaggio il bisceglie con tre partiti in meno può recuperare ulteriori punti purtroppo il potenza scricchiola deve migliorare sotto molti punti di vista per questo video è tutto in descrizione telegram instagram e facebook e potenza football club che in attivo ma presto tornerà ci vediamo in un prossimo video forza potenza